Eccoci qua signori miei all'unboxing di questo microfono a condensatore che ho acquistato su Amazon per solo i 30€ Allora, la marca non è specificata, però ci è dato sapere il nome, che è BM700 Come vedete si tratta di un microfono cinese, ma non per questo significa che sarà di bassa qualità Partiamo con la scatola, non c'è molto da vedere perché è quasi tutto uguale Qui vedremo il colore, noi abbiamo scelto quello nero, c'è in quattro colorazioni Andiamo ad aprire la scatola, eccola qua Bene, all'interno della scatola troveremo subito le istruzioni in un unico foglio A4 Eccole qui E un rivestimento protettivo Dentro troviamo gli accessori e il microfono stesso Eccolo qua BM700, questa è la marca ma non ne sono proprio sicuro Come seconda cosa Troviamo la spugnetta solita dei microfoni Da applicare qui sopra Ecco qua, così Terza cosa, troviamo questo sostenitore antivibrazioni Come vedete andrà incastrato qui dentro In questo modo qui E andrà attaccato ad un'asta che potete comprare oppure farvi da soli come ho fatto io Ultima cosa, eccolo qua Il cavetto che va da questo attacco per microfono Quindi qui sotto A il classico jack Bene, montato il vostro microfono Andiamo a vedere le prestazioni che ha sul computer Questo nuovo dispositivo monta un display da 5,5 pollici di diagonale Con una risoluzione full HD Con un ottimo pannello IPS E una resa dei colori davvero perfetta La fotocamera che monta questo dispositivo E' una 20 megapixel Con un'apertura di 1.8 E' davvero ottimo quindi per catturare ogni piccolo particolare E' un'apertura di 1.8